Sì, come è la situazione? È una merda! Non c'è niente. Cercavo un tibocco, sì. Loro sapevano che mi hanno tenuto in agguato, perché sapevano che sono tornato indietro dalla Sicilia. Quello con la camicia, non lo voglio dire, ragazzo. Levatelo dai coglioni con la camicia, con quella faccia la sua. Fatelo sparire! Le ha messo a segno tutti i coglioni. Levatelo dai coglioni! Porca puttana! Grazie!